Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Sono felice che tu abbia deciso di passare questi momenti con me. La fortuna è dalla nostra! La fortuna è dalla nostra! La fortuna è dalla nostra! Accidenti! Cavolo! Accidenti! Cacciatorpe di nere nemico individuato! Accidenti! 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 ool pro Ruppe Accidenti! Grazie a tutti. Non ce la faccio! Qualcuno mi aiuti! Attenzione! Siluri a destra! Fai attenzione! Ricognitore! Corazzata nemica individuata! È stato davvero incredibile, comanda! Ricognitore! 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 Torna indietro Corazzata nemica individuata Incrociatore nemico avvistato Corazzata nemica avvistata Quegli aerei mi danno un po' di testa Incrociatore nemico individuato Corazzata nemica avvistata La corazzata nemica sta colando a picco Comandante Te ne sono davvero grata Questa nave vuole rovinarci le feste Il cacciator pediniere nemico è splato Dovremmo davvero concentrarci su quella nave Siluria prua Prendiamo questa nave Fai attenzione Ricognitore Prendi 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 No Prendi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovremmo davvero concentrarci su quella nave. Corazzata nemica avvestata! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Prendiamo questa nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Se solo sapessi dove si nascondono! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Rimangono solo cinque minuti! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Prendiamo questa nave! Sarò felice di aiutarti! incrociatore nemico! Incrociatore nemico! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Giusto? Porta aerei nemica individuata! Corazzata nemica individuata! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero concentrarci su quella nave! Dovremmo davvero att Ded Даdev superpower! La porta aerei nemica è esplosa! La porta aerei!